Ciao Antonello, torna dopo una piccola pausa il Perugia Social Photo Fest. Ci racconti le novità di questa edizione e su che cosa si concentrerà? Si, hai detto bene, dopo una piccola pausa, ma come ho detto non potevamo non farlo. Il festival è un'occasione importante per Perugia, l'Umbria e poi per tutto il resto. Nel senso, noi appunto riconfermo quanto il festival è centrale a livello italiano e a livello europeo. Il festival sarà a Palazzo Penna dall'11 al 28 di marzo. Tutti gli eventi, la maggior parte degli eventi e le 17 mostre saranno appunto a Palazzo Penna. Il tema? Il tema dell'anno. Il tema dell'anno è la cecità, quindi un tema complicato, uno simolo se si pensa a un festival di fotografia. In realtà, appunto, oltre il discorso della fotografia per non vedenti, anzi realizzata da non vedenti, ospiteremo tre mostre molto importanti. La cecità è stata per noi indagata da altri due punti di vista altrettanto importanti. La cecità emotiva, legata ad una difficoltà di riconoscere le emozioni, ad un analfabetismo emotivo che è sempre più crescente, e una cecità sociale che è legata al non vedere, il non voler vedere, eventi, situazioni che possono minare in qualche maniera un equilibrio sociale, politico, economico. La domanda da cui noi siamo partiti è anche che ruolo ha chi fa, produce informazione e comunicazione, che ruolo ha nel veicolare determinate informazioni, la notizia in qualche maniera. Noi viviamo una società largamente basata sull'immagine, sul visivo. Ma il nostro cervello ogni giorno incamera una quantità di immagini. Noi stessi produciamo moltissime immagini. Ma tutto questo cosa va ad agire? Qual è il ruolo di tutta questa produzione incessante? Il cervello deve fare delle scelte, deve prendere alcune cose e lasciarne forse altre. Allora, tutto questo può essere usato affinché l'informazione venga veicolata in un certo modo. E quindi, per dire, rimanendo su un tema forse molto attuale dei migranti, è più conveniente far vedere un certo tipo di informazione, piuttosto che altre. E si crea poi una cecità in noi che siamo fruitori, no? Si creano poi anche tutta una serie di diffidenze rispetto, senza in realtà vedere delle informazioni che sono estremamente più approfondite. Capisco che è una difficoltà. Ma tutto questo, diciamo, veicolare le immagini in un certo modo, può creare una cecità sociale. E quindi, nella logica del Festival, noi cercheremo sempre di raccontare delle storie parallele, o raccontare quello che è scomodo, in qualche maniera. E tra gli appuntamenti principali di questa quarta edizione, che cosa ci selezioni? Beh, dopo quello che ho detto, il talk che proprio prende il titolo cecità sociale, il ruolo dell'informazione e della comunicazione. A parlarne ci saranno dei rappresentanti un po', diciamo, di questo mondo. Alfredo Bini, che è un fotografo che lavora molto in ambito sociale. Renata Ferri, che è foto editor, una, diciamo, tra le più importanti italiane, che lavora per l'RCS. Gigiola Foschi, che si occupa critica fotografica. Si scrive di fotografia. Ha scritto un libro bellissimo, piccolissimo, ma sulle fotografie del silenzio, che è assolutamente incentrato proprio su questo concetto. Loredana De Pace, che anche lei è giornalista e critica fotografica. Un altro evento, sicuramente importante, è l'Alezio Magistralis, che si terrà alla Sala dei Notari con Letizia Battaglia. Letizia Battaglia è una fotografa tra le più importanti italiane. Davvero è quella che ha maggiore influenza anche a livello internazionale. È conosciuta come la fotografa antimafia. Quindi è necessario che questa fotografa, che ha deciso di rimanere in una città, Palermo, la sua città, con tutte le difficoltà e con un coraggio da leoni, a documentare, a fare la sua battaglia, appunto, contro la mafia, in un'ottica di città sociale, riuscire a portare una donna che ha alzato la testa, ha gridato con le immagini, questa lotta, credo che sia assolutamente importante. Un altro progetto, tra i tanti, segnalo, sia in mostra che in un panel, il progetto Rare Lives, che è un progetto che ha visto la collaborazione con un'agenzia fotogiornalistica italiana e l'Associazione di Malattie Rare, un progetto che ha indagato in sette paesi europei la condizione di chi vive una malattia rara, che è cieco per le case farmaceutiche, è cieco per gli Stati che non investono in un welfare dedicato e quindi si trova a vivere una vita con gravissime difficoltà. Questo è un progetto che ne parleranno sia il Presidente dell'Associazione Uniamo, sia dalla piccola, che è uno dei massimi luminari del settore, ne parleranno qua. E questo è un progetto che poi andrà al Parlamento europeo. Quindi di nuovo la fotografia diventa davvero una porta per poter parlare di altro. Per cui il Festival quest'anno deve essere vissuto non pensando di venire a vedere una mostra fotografica a Tucur. Ci sono delle immagini che devono essere viste non solo con gli occhi. Ci sono delle immagini che devono essere vissuto non solo con gli occhi. Ci sono delle immagini che devono essere vissuto non solo con gli occhi.